Quasi 200 equipaggi al via e una porta aperta anche alle WRC Plus, le auto ufficiali, del Mondiale Rally. Venerdì 6 e sabato 7 novembre si corre sulle strade lariane il 39esimo rally trofeo AC Como e TV, valido per la Rally Capitalia e per la Supercoppa WRC Italia, oltre che per una serie di trofei monomarca. Organizzare una gara di queste dimensioni è già una sfida, una sfida ancora più impegnativa se si tiene conto del delicato periodo dal punto di vista sanitario. Ovviamente la risalita dei contagi viene osservata con attenzione dagli organizzatori, ma l'Automobile Club Como ha formulato la gara nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie e seguendo linee guida di massima prudenza. Per il parco assistenza, ad esempio, è stata scelta l'area molto vasta di Lario Tir e l'accesso sarà consentito solamente al personale di servizio per evitare assembramenti di tifosa. Direzione gara e punto stampa saranno invece allestite al centro driver di Via Paoli a Como. La partenza è stata spostata al parco assistenza di Lario Tir. La prima vettura scatterà venerdì 6 novembre alle 17.01 e si sposterà in trasferimento in Valle Intelvi per disputare la prima e unica prova della giornata, Alpe Grande, con partenza alle 18.10. Si risalirà nelle macchine da corsa sabato mattina due prove nel Triangolo Lariano, Sormano, Zelbionesso e Bellagio, poi di nuovo in Valle Intelvi per un'altra Alpe Grande e gli ultimi due decisivi passaggi nelle due prove del Triangolo Lariano di Sormano e Bellagio. L'arrivo al driver di Como è previsto sabato alle 18.10. Enrico Gelpi, presidente dell'Automobile Club Como, definisce l'organizzazione di un rally così importante in un momento tanto delicato una sfida e una scommessa, intraprese per proseguire una tradizione lunga quasi 40 anni. Sono saltate tantissime gare in Italia, questa è una delle poche organizzate dagli Automobile Club. Ci siamo mossi a fine agosto quando le cose sembravano migliorare perché per organizzare una manifestazione di questo tipo ci vogliono più di due mesi. È chiaro, adesso siamo in una situazione invece di ripresa dell'epidemia, ci sono tutti i protocolli di sicurezza che sono stati emanati dalla federazione in accordo col CONI e con il Ministero dello Sport che noi rispetteremo ovviamente e quindi veramente l'auspicio è quello di poterla davvero effettuare in tutta sicurezza e quindi dare alla provincia di Como uno spettacolo di rally di livello nazionale e internazionale. Il direttore di corsa Vittorio Galvani aggiunge che questo rally è stato cucito sulle esigenze e sulle necessità dei piloti. Noi ci aspettiamo un buon numero, un gran numero di concorrenti e ci aspettiamo di fare comunque una bella gara magari ripetendo proprio quella dell'anno scorso, sarebbe il massimo però si cerca sempre di migliorare.